No, ma abbiamo parlato di cose meravigliose. Io li ho presi, hai visto, li ho sequestrati, li ho portati. E' una azione che ci facciamo male così. E' tanto, le faremo di più di queste cose. Cosa vi siete detti? Sono bellissime, sono bellissime. Sono riunioni... Oddio Beppe, ma sei te? Beppe! Beppe! Cremi, almeno a pranzo l'ha ripreso? A pranzo si è comportato bene, Cremi. Cremi, almeno a pranzo l'ha ripreso. Non ha macchiato, non ha macchiato. Non ha macchiato nulla, Cremi. Grazie.